Ciao a tutti, oggi prepareremo i canederli allo speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono acqua chiebida, dado bimbi, pane raffermo fatto a pezzetti, speck a pezzetti, latte, uova, farina di tipo 0, prezzemolo, parmigiano, sale, pepe, noce moscata e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pane, il parmigiano e il prezzemolo. Lo facciamo tritare per 30 secondi da velocità 7 a velocità 10. Aggiungiamo lo speck. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Aggiungiamo il latte, le uova, la farina, il sale, la noce moscata e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Formeremo adesso delle palline e le posizioneremo nel vassoio del Varoma unto con olio. Proseguiamo così per tutto il resto del composto. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale l'acqua, l'olio, il dado, chiudere con il coperchio, posizionare il Varoma e cuocere per 25 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. I caneverli sono cotti. Andiamo a impiattare. Servire con il brodo caldo. Canederli allo speck. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!